voilà eccoci qua oggi facciamo il percorso 351 e 352 qui nel dintorno di lugano quindi percorso di collina d'oro e quello della pevicania giornata un po freschina siamo intorno allo zero ma tutto ok e 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 giro terminato è andato tutto bene non ci resta che darci appuntamento per la prossima l'importante è mai mollare ciao e e e e e e e e e